Ragazzi prima di iniziare vi voglio ricordare che il 5 settembre alle ore 16, 18 e 20 inizieremo la serie dei rinnegati Quindi mi raccomando non mancate e detto questo godetevi il video E buonservi ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avete detto dal titolo andremo a parlare di azzardo Più precisamente andremo a parlare di quelle che secondo noi sono le tattiche più efficaci e gli equipaggiamenti da utilizzare in azzardo Ovviamente questa guida è basata sulla prova gratuita che abbiamo appunto provato La modalità verrà poi comunque influenzata con l'uscita del gioco dalle nuove armi e dalle nuove sottoclassi Infatti poi uscirà anche una guida aggiornata in cui appunto prenderemo in considerazione questi nuovi elementi Nel frattempo vogliamo condividere con voi tutte le informazioni che siamo riusciti a raccogliere su azzardo e su come giocarlo al meglio Prima di iniziare premetto che in questo video non starò a spiegare le regole di azzardo ma semplicemente le tattiche migliori, gli equipaggiamenti da utilizzare e come appunto giocare al meglio Quindi se non conoscete le regole informatevi e poi potete guardare il video Innanzitutto consiglio vivamente di dividere la squadra in due attaccanti e due difensori Per attaccanti intendo invasori mentre per difensori intendo specializzati in farming di particelle Inoltre nella squadra penso siano necessari almeno un cacciatore e un titano Perlomeno queste mi sono sembrate le classi più utili in questa nuova modalità e più avanti vedremo anche perché Ovviamente questa divisione verrà attuata principalmente quando i portali si apriranno E quindi i due attaccanti dovranno organizzarsi su chi andrà a invadere Mentre i difensori dovranno essenzialmente continuare a raccogliere particelle Ma ne parleremo più avanti nel dettaglio Partiamo adesso dal farming delle particelle Giocando siamo riusciti a sviluppare due tattiche diverse Una che ha come obiettivo quello di mandare più assedianti grandi possibili nel campo degli avversari Mentre l'altra che cerca di riempire l'arena avversaria e gli assedianti piccoli Per quanto riguarda la prima delle due Bisognerà stabilire innanzitutto chi raccoglierà le particelle Una volta fatto ciò ci basterà uccidere i mob senza raccogliere le particelle E farle raccogliere appunto a questa persona Ovviamente dovete considerare che più particelle avrà più ci sarà rischio di perderle I membri della squadra che quindi non raccolgono le particelle dovranno anche cercare di proteggere il raccoglitore In modo tale da non perdere le particelle raccolte Una volta arrivato al massimo di 15 particelle Vi basterà andarle a depositare nella bank e ricominciare il tutto L'altra tattica invece comporta un po' meno di gioco di squadra Infatti per riempire il campo avversario e gli assedianti piccoli Tutti quanti dovranno raccogliere particelle E ovviamente anche uccidere i mob Con la differenza che qui ognuno potrà avere un massimo di 5 particelle Che una volta raggiunto andranno depositate nella bank In questo modo potrete mandare più assedianti piccoli possibili nel campo degli avversari E il rischio di perdere particelle sarà anche relativamente minore Parlando invece degli equipaggiamenti che potrete usare in questa fase di farming Vi consiglio come super il martello, il pugno, la sentinella, l'avoca tempeste, il bastone e la freccia Essenzialmente per pulire Ovviamente queste super dovranno essere equipaggiate solamente dai difensori Perché gli attaccanti dovranno utilizzarne altre Per invadere i nemici e ucciderne il più possibile Oltre quindi alle super per pulire si fa presente la necessità del titano Che come avevo già detto prima, secondo me deve per forza essere nella squadra Questo perché le spallate del titano sono state decisamente potenziate E sono molto utili per shottare i nemici con lo scudo Che possono dare dalle 3 alle 5 particelle In questo modo risparmierete molto tempo e prenderete particelle più velocemente Per quanto riguarda invece la presenza degli assedianti nel nostro campo Semplicemente i difensori continueranno a farmare Mentre gli attaccanti si occuperanno dell'eliminarli Andiamo ora a parlare dell'invasione Quindi del ruolo degli attaccanti Innanzitutto le armi che vi consiglio di usare Sono quelle che prevalgono dalle lunghe distanze Quindi essenzialmente ricognizioni e cecchini Per i cecchini vi consiglio il sussurro Che sarà anche utile contro i boss Altri elementi veramente molto utili sono Il simulatore, il pistolero, la lama dell'alba e la bomba nova Il simulatore, il pistolero, il cecchino e il ricognizione Come già detto sono molto efficaci dalle lunghe distanze Quindi riuscirete quasi sempre a uccidere i nemici senza che loro vi vedano La lama sarà molto utile per muoversi velocemente e raggiungere i nemici in fretta Per poi ovviamente colpirli con le fiamme Mentre la bomba nova è diciamo l'elemento che sarà un pochino più limitato Per chi potrà essere utilizzato al meglio solamente se i nemici saranno tutti insieme L'elemento importante che deve ricordare chi invade è che i nemici non sanno dove siamo Quindi dobbiamo cercare di colpire dalle lunghe distanze In modo tale da non far capire la nostra posizione Altri elementi molto importanti per gli invasori Sono uno che chi invade deve avere per forza o pesanti o super se non tutte e due E due che prima di invadere bisogna assolutamente scaricare le particelle nella bank Perché nell'eventualità in cui morissimo le potremmo perdere Passiamo ora alla parte di difesa dell'invasione Quindi quando appunto riceveremo l'invasore nemico Le tattiche principali per ucciderlo sono innanzitutto smettere subito di fare particelle E concentrarsi sul cercare il nemico Rimanere lontani da questo una volta che si è trovato E soprattutto rimanere anche lontani dai nostri alleati In caso questo avesse una super E cercare di teamshotarlo il più possibile Le armi da utilizzare sono bene o male le stesse dell'invasione Considerando che il tenersi lontano dall'avversario È un elemento che è presente in tutte e due le attività Mi raccomando è molto importante non utilizzare la super Sia per gli attaccanti che per i difensori Per gli attaccanti perché sarebbe uno spreco Utilizzarla su un solo nemico Quando potrebbero ucciderne 4 una volta invasi Mentre per i difensori farebbe perdere parecchio tempo nel farming di particelle Un consiglio che vi posso dare in rapporto con l'elemento dell'invasione È quello di tenere sempre d'occhio il contatto delle particelle avversarie Questo perché l'invasione sarà abilitata al raggiungimento di 25 particelle Di 50 particelle e poi durante la fase del primordiale di cui adesso andremo a parlare Se quindi magari abbiamo 12 particelle Ma vediamo che il nemico sta per esempio a 20 E che quindi a breve potremmo subire un'invasione Ci conviene non rischiare di prenderne altre 3 Per cercare di mandare un grande essediante Ma scaricarle subito in modo da farci trovare con 0 particelle Quando arriverà il nemico Così anche in caso morissimo le particelle non verranno perse Andiamo a parlare ora della fase finale Ovvero quella del primordiale Questa fase di solito avviene pressoché contemporaneamente in tutte e due le squadre Quindi una volta che entrambe le squadre avranno evocato il primordiale I portali si apriranno abbastanza spesso Per cercare appunto di ostacolarsi l'un l'altra In questo caso i due attaccanti si dovranno coordinare molto velocemente Per alternarsi nell'invasione Come al solito seguendo la regola delle pesanti e della super Alternandosi ogni volta che invaderanno Uno dei due dovrebbe avere o l'uno o l'altra Una tattica che ho visto usare Che è utile sia per abbattere il primordiale Che per difendersi da eventuali invasori È quella di lanciare la freccia al centro della piattaforma centrale In questo modo indeboliremo il primordiale E molto probabilmente riusciremo anche a ragganciare l'invasore Perché è difficile che questo non passi al centro della mappa Per quanto riguarda l'abbattere il primordiale Quindi il ruolo che dovranno avere i due difensori E l'attaccante che non andrà a invadere Vi consiglio di usare il pompa del protocollo Il simulatore e il sussurro Comunque tutte le armi che utilizzereste contro Calus O contro un boss del raid in generale E ovviamente le super da difesa In questo modo il primordiale dovrebbe scendere abbastanza velocemente Mi raccomando però in questa fase non sottovalutate gli invasori Perché faranno recuperare vita al vostro primordiale Se vi uccideranno In ogni caso vi basterà seguire i consigli che vi ho dato prima E questo non dovrebbe creare troppi problemi Quindi ragazzi questa era la guida sulle tattiche Che al momento siamo riusciti a sviluppare su azzardo Io direi che se il video è stato utile Lasciate like, commentate e condividetelo Io sono tutti quelli che conosciute e che non conosciute Che c'è la tradissima Seguiteci anche su Instagram, Facebook Come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione E anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito E detto questo ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Io sono Gauda Per la tua luce E' mia E' mia Per la tua luce E' mia E' mia